Ciao, sono Arianna della libreria, giunti al punto della stazione di Bologna. Allora, una cosa che mi viene chiesta molto spesso qui è per favore mi consigli un libro che non sia troppo lungo, che mi accompagni per il tempo del viaggio in treno. Quindi oggi vi presento tre libri sotto le 200 pagine, perfetti per un viaggio. Allora, con il primo gioco in casa, perché è ambientato nella mia città, sto parlando di Almost Blue di Carlo Luccarelli. Questo è un thriller corale, quindi da più punti di vista, molto serrato e con una protagonista molto forte, grazie a Negro, ma soprattutto con una bellissima prospettiva della città di Bologna, veramente vi sembrerà di visitarla. Io mi ci sono riconosciuta tantissimo, ecco. Il secondo lo consiglio a chi ama le riscritture dei miti. Sto parlando della morte della pizia di Durenmatt. Qui noi vediamo il mito di Oedipo, raccontato però dal punto di vista della sacerdotessa che gli ha profetizzato il suo terribile destino. Il fatto è che lei lo ha fatto dicendogli la prima cosa che gli è capitata per la testa, sostanzialmente, perché è anziana, perché non ne può più delle persone, e invece si troverà a dover affrontare le conseguenze di questa sua azione. Ultimo, una raccolta di racconti. Sto parlando di Acqua e sangue di Patrick McGrath. È l'autore del celeberrimo Follia. Qui lui rielabora le tematiche classiche del thriller, dell'horror, della suspense. Certe volte lo fa in maniera riverente. Sfocia anche nella commedia nera, se vogliamo, ecco. Il mio racconto preferito qui è la storia di Arthur Crombeck. Questo qui è perfetto per chi deve fare più viaggi.